Musica Sono pronte a scendere in campo le Black Angels Perugia Volley che alla Sala dei Notari si sono presentate in vista dell'avvio del campionato di A2 femminile. Parterre di autorità con il Comune di Perugia rappresentato dall'assessore allo sport Clara Pastorelli con il presidente regionale del CONI Domenico Ignozza e il consigliere della FIPAV Umbria Cristianna Borgioni che ha portato il saluto di Giuseppe Lomurno. A fare gli onori di casa il presidente del Perugia Volley Antonio Bartoccini. Un campionato lungo dove quest'anno la Bartoccini insieme ad altre squadre parte un po' con il favore dei pronostici. Sì, era l'intenzione nostra di fare una squadra competitiva, crediamo di averla fatta, poi adesso i risultati del precampionato sono stati soddisfacenti, anche se non contano niente. Però l'obiettivo è quello di stare tra le prime e chiaramente per vincere ci vorrà un pezzicolo di fortuna, il campionato sarà molto competitivo, difficile, lungo e quindi ci vorrà molta attenzione, molta determinazione nel portare avanti il nostro obiettivo che comunque sarà difficile. Questa è una caratteristica di questa dirigenza, di questo presidente, dopo un anno un po' difficile come quello dell'anno scorso ci si è rimessi giù a testa bassa proprio a costruire una squadra competitiva, non è così da tutti? No, ma se no se i campionati di tutti i sport fossero fatti solo le squadre vincenti giocherebbero un 3-4, poi anche lì c'è sempre qualcuno che perde, quindi i risultati sportivi sono questi. Bisogna avere un po' le idee chiare su quello che si vuole fare, quindi siamo ripartiti con determinazione per fare quello che riteniamo sia giusto per la città di Perugia, per la nostra società e quindi siamo rimessi sotto sempre con la nostra grinta, con la nostra voglia di fare buona palla a volo e poi vediamo se i risultati sono spiccabili, siamo tutti più contenti. Questa società che oramai da tanti anni porta nel femminile il nome di Perugia a livello nazionale, partendo però dal basso, dalle giovanili, da ragazze che crescono, la collaborazione con la School Volley, quest'anno abbiamo una ragazza che proprio viene, credo sia la palleggiatrice, dalla School Volley di Ponte Felcino mi sembra, questo è significativo perché è una squadra molto identitaria, non a caso, sono anni che celebriamo questa partenza del campionato qui alla Sala dei Notari, quindi immancabile anche quest'anno per spronare, dare il meglio alle nuove ragazze, al nuovo allenatore, insomma un rinnovamento anche nel nome, nel logo per riportare Perugia femminile ai massimi livelli. Poi ora avranno anche una casa ancora più grande e accogliente con un pallabarton ampliato e rinnovato, reduci da una manifestazione bellissima e importantissima come la tappa degli europei, da poco svoltasi e con grande successo, siamo sotto l'occhio d'osservazione a livello nazionale come impiante, come società, perché a Perugia c'è una tradizione pallavolistica importante che società come la Bartuccini Forti Infissi, oramai Back Angels, Perugia Volley rappresentano e quindi il Comune non può che sostenermi in qualsiasi modo. Una squadra che è stata quasi completamente rivoluzionata rispetto alla passata stagione, credo usando sempre il solito mix fra esperte e giovani emergenti. Ormai ci conosci bene, quindi la formula la conosci, sia che sia vincente o meno, ma noi pensiamo che per raggiungere degli equilibri sia fondamentale avere delle persone guida, dei driver all'interno della squadra che sono le persone più mature e in questo caso gente come Imma, che comunque per noi è un ritorno, sono Silvestri, gente come Ricci, gente come Coiandro, sono elementi di assoluta esperienza. E poi tanta qualità giovane, tanta qualità giovane che ci dà la possibilità di sperare di fare qualcosa di importante. Un campionato che vi vede, almeno alla vigilia, anche in virtù dei risultati del precampionato, che spesso non hanno un valore se non quello puramente formale, che vi vede fra le squadre favorite per questa 2. Un campionato comunque molto ostico, la 2 è soprattutto molto lungo. Sì, è un campionato difficile perché le promozioni sono poche, le squadre sono tante, ci sono piazze ambiziose, fra cui indiscutibilmente anche noi, senza nasconderci, però insieme ad un numero di squadre che ambiscono sicuramente la promozione, quindi non sarà un campionato facile, bisogna capitalizzare punti ogni partita perché la formula prevede che poi nella seconda fase si portino dietro i punti della prima fase e di conseguenza dobbiamo fare sempre il massimo. Squadra quasi interamente rinnovata per questa nuova avventura che inizia domenica 8 ottobre alle ore 17 in un palabarton che lo stesso assessore Pastorelli ha ricordato essere stato interamente rinnovato e che offre oggi al mondo sportivo una struttura efficiente e funzionale. Quello di domenica sarà l'esordio in panchina come primo allenatore per il perugino Andrea Giovi, già giocatore di RPA, SIR e Nazionale. Abbiamo iniziato la nostra strada per costruirci come squadra appunto, siamo partiti da un gruppo di persone, stiamo cercando di diventare una squadra nel minor tempo possibile e già la domenica inizieremo a vedere a che punto siamo. Dicevamo che un campionato, quello della 2, molto lungo, ostico, tra virgolette so che tu non vuoi sentirtelo dire ma la Bartocini quest'anno parte un po' con il favore dei pronostici, ma il campionato è tanto lungo? Ma il campionato è lungo, ci sono tante squadre che cercano di fare il salto, quindi come noi, Macerata, penso a Messina, Busto, la stessa Brescia e se mi dimentico qualcuno mi perdoneranno, comunque ci sono tante società e tante squadre che ambiscono appunto a fare questo salto e speriamo di riuscire a competere con le migliori e spuntarla su di loro. Ovviamente poi va la domanda personale, Perugino Doc che per tanti anni ha militato anche nella massima squadra maschile della città, si trova ad essere il primo allenatore della massima squadra femminile di Perugia? Una bellissima responsabilità, ho vissuto questo onore da giocatore e spero di riuscire a fare lo stesso anche da allenatore, anche se è un ruolo diverso e quindi si vede tutto con un punto di vista differente, però l'orgoglio di rappresentare la mia città anche da allenatore è una fortuna che non capita a molti. Siamo molto emozionate, io moltissimo, anche per il ruolo che mi è stato assegnato, però sono molto onorata di fare il capitano di questa squadra che a mio avviso ha delle caratteristiche importanti, belle per me, è una squadra che combatte, che ha voglia di far bene, ha fame, e quindi stiamo un po' distribuendo le energie questa settimana per arrivare giuste domenica. E niente, non vediamo l'ora di iniziare, vi aspettiamo tutti e tutti quanti, voglio un palazzetto pieno, so che comunque la prima non è facile, però vi faremo appassionare. Tra l'altro, Imba, un precampionato con tanti amichevoli dove avete dato ottime prove, si dice che non bisogna troppo guardare le amichevoli, che sono dei test di prova sia per l'una che per l'altra squadra, però ci sono ottimi spunti. Sicuramente siamo arrivate fino a qui con una buona consapevolezza, abbiamo lavorato benissimo, è importante essere arrivate qui con un buon lavoro alle spalle, però comunque siamo 0-0, quindi tutto quello che abbiamo fatto finora i risultati non contavano, quello che conta è il risultato di domenica da qui in poi, però abbiamo fatto, ripeto, un bel lavoro fino a qui. La 2 è un campionato molto lungo, molto difficile, insomma è stata costruita un'ottima squadra, non diciamo niente per Scaramanzia che per certi versi parte anche con il favore dei pronostici, però il campionato di A2 è un campionato lunghissimo. Sì, mi è stato detto perché ancora non l'ho fatto, però sì, mi aspetto un campionato molto difficile, comunque molto equilibrato, a differenza della 1 le squadre più o meno sono tutte lì, ce ne sono 7-8 forti, quindi noi dobbiamo fare il nostro percorso, giocare la nostra pallavolo e concentrarci sulla singola partita, non sull'obiettivo a lungo termine, partita dopo partita e vediamo. Poi man mano le difficoltà che incontreremo le risolveremo, insomma, però ecco, questo. Alessia Lillacci è l'unica perugina di questa Bartoccini che dopo tanto peregrinare in squadre Umbre e non solo arriva alla società più blasonata in Umbria, ovviamente te l'avranno chiesto intanto, ma che cosa significa? Fra due o tre giorni debutterai a Perugia in prima squadra? Sì, è vero, è una domanda abbastanza frequente, però la risposta è sempre la stessa, è un'emozione enorme perché rappresentare un po' la mia città su un palcoscenico così importante per me è un onore, prima di tutto, e spero di fare il meglio possibile per questa stagione, spero che andrà tutto come deve, insomma. Entusiasmo alle stelle, con la volontà dichiarata di tornare presto nella massima serie, di attrarre quanto più pubblico possibile, anche grazie ad iniziative come la gratuità dell'ingresso al Palabarton per tutti i tesserati FIPAB. Nel corso della conferenza stampa è stata ricordata la rinnovata partnership tra la società pallavolistica e TRG Canale 13, che trasmetterà in esclusiva la maxisintesi delle partite il lunedì successivo alle gare, alle ore 21.45, in replica il martedì alle ore 14. Grazie a tutti.